Continua l'attenzione nei confronti dei circa 2.500 lavoratori assunti in Sicilia durante il periodo della pandemia. Dopo la nota del coordinamento regionale Comitato Lavoratori Emergenza Covid-19 della Sicilia e dei nuovi coordinamenti provinciali in cui veniva chiesta la stabilizzazione per i tanti professionisti, amministrative e tecnici reclutati, è arrivata la risposta della politica esolana. Ieri infatti è stata approvata l'Assemblea regionale siciliana con un emendamento alle variazioni di bilancio, la norma che consente di prorogare per 60 giorni il contratto di lavoro del personale tecnico e amministrativo che è stato impiegato nella sanità durante l'emergenza Covid. Ieri ho incontrato una delegazione di questi lavoratori e ho preso un impegno che ho subito mantenuto, grazie anche alla sensibilità del Parlamento regionale sul tema, ha detto il Presidente della Regione Renato Schifani, che ha promesso di lavorare con tutte le parti coinvolte a sedere a un tavolo tecnico che istituiremo presso l'Assessorato alla Salute, che cercherà, ha concluso il Governatore, di individuare possibili percorsi per l'impiego di queste risorse umane.